Ci sarebbe una semplice discussione tra automobilisti alla base della violenta aggressione di cui è stata vittima un uomo di 64 anni, D.B. le sue iniziali, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, in via 4 Novembre, all'incrocio con Via Tononi, di fronte al Cheope. A colpirlo due sconosciuti scesi da una Fiat Panda con cui l'uomo aveva avuto un confronto per ragioni di traffico. Gli aggressori lo avrebbero assalito proprio di fronte alla pizzeria, colpendolo con un paio di pugni al volto e facendolo cadere a terra. È stato portato al pronto soccorso per i traumi subiti. Sul posto la polizia che si è messa alla caccia dei due, fuggiti dopo aver malmenato il 64enne. A quanto pare diverse persone avrebbero assistito alla scena, gli investigatori hanno in mano elementi concreti per risalire agli aggressori. A scatenare tutto, a quanto sembra, questioni di viabilità. Una discussione degenerata quando, a quanto pare, uno dei due ha preso per il collo l'uomo e l'ha colpito violentemente. Grazie.